Al scermo, chi glielo dice? Hai presente l'amantica religiosa? Hai presente Shakespeare? Tu ce n'hai due, è belle grosse! Non drammatizziamo! Cioè, è solo una questione di corno, che sarà mai? Vorrei proprio scontarmi di aver perso tutto quanto tempo di avere una come te. Bolla! Bolla! Via Zanardi 33 Arriva il WWF e ce lo protegge. Questa sera le 23 in prima visione, su Italia 1. Grazie a tutti!